Comincia Grande Fratello, la trasmissione più attesa e discussa della stagione. Come si fa a non parlare del Grande Fratello? Dieci milioni di spettatori per la puntata del Grande Fratello. Il Grande Fratello è certamente uno degli eventi televisivi di questa stagione. Devo pensare di esserti simpatico, ma forse non simpatico. Cioè penso di piacerti, un pochetto. Ti piace o no? Posso dire, mi piace. No, mi vorresti da un bacetto piccolo, così. Adesso non so se riuscire a baciarti. Non senti bisogno di stampare un po' per c***o i tuoi, no? Ma qui non lo trovi, come fai a farlo qua? No, 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 no. People say I'm the life of the party Because I tell a joke or two Although I might be laughing loud and hearty Deep inside I'm blue So take a go Now I'm the life of the party But I'm the life of the party And forse si comincia a notare sto fatto Però non devo fare errore L'errore è di ferire le persone A volte mi viene di fare della corte Perché penso di non piacerle E non me le do una ragione Quanto sei carino, mi piaci sempre di più, mannaggia Io voglio che tu mi vedi in maniera diversa Io ti devo piacere Dimmi che ti piace, per favore E poi cominciamo a parlare Ok, mi piace Ma dove ti scusi, che imbarazzo allucinante, adovino Oddio, ma io parlo così Mi hai capito due, tre volte di parlare così No, 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 Pietro, Pietro, non fare Sono andato in tilt, allucinato E' zumpato il sistema Un virus, è entrato un virus nel sistema I love you so much Can't count all the ways I died for you, girl And all I can say is He's not your kind They never get tired of putting me down And I never know when I come around What I'm gonna find Don't let them break up your mind I can't get no satisfaction I can't get no satisfaction Cause I tried And I tried And I tried And I tried I can't get no No, no, no No, no Hey, hey, hey That's what I say C'è un pelo che va preso con proprio la cattiveria Devi soffrire in silenzio E servirebbero delle strisce Le strisce Quelle che sono dentro la borsese Se voi mi compraste delle strisce e basta Io so apposto Se lo faccio mercoledì fa schifo Perché è bruttissimo, no? Ma volevo farlo il più presto possibile, insomma La mia personalità è positiva Perché è un mix di simpatia, equilibrio interiore E anche di una sorta di intelligenza Nel boschetto della mia fantasia C'è un fotio di animaletti un po' matti Inventati da me È normale Ma mi sono trasformato Già che io ero nella strada della bruttezza di quella mostrosa Ludovico... zitto Ludovico... Arostio... Ariosto... Ariosto... Ha scritto... Ha scritto... Cavallo Furioso Il nostro corso è stato Grazie a tutti. Ciao, alla prossima. Vince la prima edizione del grande fratello Cristina. Grazie a tutti.